Oh ma quando ti piglia la voglia di street food ragazzi, ciao! Oggi ti fai panino all'ampredotto, come se tu fossi a Firenze. Prima cosa fai un bel brodo, sedona, carota, cipolla, prezzemolo, bacche di ginepro, pepe e concentrato. Arrivata temperatura ci mettiamo il lampredotto dentro a cuocere per 90 minuti. A questo punto tagliamolo a pezzetti, tagliamo a metà un bel panino di semola o semella. Chiama la semella o come ti pare, ma l'importante è in su palla nel brodo. E' lì il su buono ragazzi. Doppio strato di salsa verde e lampredotto. Spettavolo! In zuppa ancora al pane. Alla fine goditelo, goditelo come se tu fossi a Firenze. E rifallo a casa perché costa po' e tu godi veramente. Un calice di vino rosso e ciao! Anche tu poi!